Opere pubbliche per complessivi 6 milioni di euro sono quelle programmate dall'amministrazione Coppola nel biennio 2020-2021. Alcune di queste, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono state arreviate nell'anno appena trascorso per un totale di 2,8 milioni di euro, altre invece prenderanno il via nel 2021. Tra le più importanti procedono gli interventi di realizzazione della scuola primaria in località a mattine, la sistemazione del secondo piano del Palazzo Civico delle Arti, i lavori di ampliamento del servizio per il porto Peschereccio. Tra gli interventi già effettuati invece ci sono lavori per l'installazione in pianto ascensore e l'adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico Gino Rossivairo per complessivi 100.250 euro, il potenziamento della pubblica illuminazione in via Gregorio nel tratto compreso tra lo svincolo di Agropoli Nord e località a mattine, un tratto da sempre al buio e molto pericoloso. E poi tanti sono i progetti finanziati che partiranno a breve, tra questi il completamento del ripascimento, la sistemazione dei marciapiedi in diverse aree, Centro Cittadino, Lungomare San Marco, Via Caravaggio, Via Giotto, località Fonti, Trentova e la realizzazione di un piccolo parco a Madonna del Carmine. Il 2021 sarà dedicato anche alla sistemazione e adeguamento degli impianti sportivi di concilio in via Taverne e Polito in località a mattine per complessivi 1,2 milioni di euro. Sarà rinnovato il parco Liborio Bonifacio in via Taverne, dove nascerà uno skate park e un giardino sensoriale per 250.000 euro. Infine, sistemazione strade, la predisposizione di una rotatoria in località a Marrota, nei pressi dell'ospedale civile e nuovi parcheggi in via Selvi e via Lighieri, per un totale di opere da realizzare nel 2021 di 3,2 milioni di euro. L'anno appena trascorso, afferma il sindaco Adamo Coppola, contraddistinto dalla pandemia, ci ha frenato impedendoci di compiere buona parte delle tante azioni che avevamo previsto, ma non ci ha impedito di programmare e nel 2021, confidando in un miglioramento generale della situazione legata al Covid-19, contiamo di recuperare il tempo perduto e di realizzare quanto rimasto in sospeso nel 2020 e accelerare su quanto previsto nell'anno in corso. Tante le opere da concretizzare per continuare a migliorare i servizi della nostra città, in modo da renderla ancora più vivibile.